Buonasera, buonasera, buonasera assessore, allora io non devo chiedere niente all'assessore, chiedo solamente come mai il sindaco è latitante? Non è latitante il sindaco, assolutamente, oggi sarà in consiglio. No, ma la signorina qui è da un mese che ha detto che è stata in consiglio, che non ha tempo, però il tempo passa, noi vorremmo vedere nel sindaco che abbiamo da chiedere delle cose. Che è successo? No, non è successo nulla, assolutamente, anzi se posso essere utile io a farmi una portavoce per poter risolvere il problema, ben venga, però sicuramente il sindaco parteciperà, se non è partecipato nelle ultime puntate, perché probabilmente oggi abbiamo finito una giunta tardissimo, doveva ricevere delle persone, poi c'è il consiglio comunale, quindi devo dire che fare il sindaco è davvero estremamente impegnativo, però il tempo, tra l'altro il sindaco sapete bene che oltre che questo colloquio diretto con i telespettatori telebari, predilige questi colloqui e questi contatti diretti con i cittadini, tanto che è il sindaco che ha più fan, più amici, più concittadini, anche sul profilo di Facebook e molte volte tante problematiche sono state segnalate e anche risolte attraverso il sito, il profilo di Facebook Michele Milano, quindi sicuramente il sindaco è vicino, non può essere definito latitante, anzi tutt'altro, vi garantisco che il sindaco è sempre presente, anche devo dire in maniera a volte estremamente forte, perché giustamente a cuore, come ogni buon padre di famiglia, diciamo a cuore le sorti della propria famiglia, lui accuora le sorti della città e quindi noi assessori siamo i primi a essere immediatamente responsabilizzati e richiamati per le difficoltà e le necessità che i cittadini espongono a noi, ma soprattutto al sindaco che poi cerca di porre rimedio. Volevo rassicurare il telespettatore, c'è stata una concomitanza di fattori, di impegni che purtroppo hanno permesso al sindaco di essere in questi studi, effettivamente da un mesetto a questa parte, però l'abbiamo incontrato proprio domenica in occasione del convegno mezzogiorno di fuoco del Partito Democratico e appena ci ha incontrato ha detto che dobbiamo vederci al più presto, perché sicuramente tiene anche lui a cuore tutti i telespettatori di Telebari, visto che questa trasmissione è cresciuta anche con lui da tanti anni. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, saluto l'ospite, il dottor Patresca, volevo rivolgere una domanda, per quest'anno ce lo facciamo il bagno a Torrequetta o dobbiamo rifugiarci la panna e pomodoro? Assolutamente, assolutamente voglio tranquillizzare. La ringraziamo per la segnalazione perché ha introdotto un argomento di cui si è dibattuto molto in questa settimana, quindi abbiamo modo anche di chiarirlo, l'abbiamo fatto già nella trasmissione mattutina, forse vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, dico, almeno io come barese d'occhio sono molto più affezionato a Torrequetta che non è qui, quindi volevo sapere questo. Ovviamente saluto, buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie per il suo intervento, effettivamente è un leggerissimo passo indietro, noi abbiamo trattato questo argomento nella trasmissione B&G che viene onda su Radio Bari e Telebari, l'abbiamo fatto con il direttore generale dell'ARPA Puglia, Mario Assennato, perché evidentemente per un difetto di comunicazione adesso non si riesce a capire, si era un po' suggestionato, all'opinione pubblica con l'eventuale presenza di amianto all'interno di Torrequetta, il direttore generale dell'ARPA, Mario Assennato, ha tenuto a precisare che non c'è pericolo amianto all'interno di Torrequetta. Io direi che all'interno di Torrequetta non c'è più pericolo amianto, che è una circostanza molto importante, perché dopo tanti anni, ma soprattutto tanti lavori e tante risorse spese per poter consentire ai cittadini di usufruire di una delle spiagge più belle della nostra città, finalmente è stata fatta questa bonifica e così come l'anno scorso, ma anche quest'anno, si potrà usufruire di Torrequetta per la balneazione, ma non solo per la balneazione, perché la Giunta sta provvedendo a trovare poi le soluzioni migliori affinché quel luogo viva tutta la giornata, quindi non solo durante gli orari mattutini per il bagno pomeridiani, ma anche per poter offrire una serie di servizi e di luoghi dove poter passare le serate piacevolmente. Ci faremo il bando per la gestione dei servizi privati. Ecco, magari andiamo per gradi, perché anche su questa questione c'erano un po' di perplessità sollevate da parte dei cittadini che vogliono indubbiamente delle risposte sul fatto che per entrare a Torrequetta si debba o meno pagare il ticket. Torniamo però un attimo sulla questione Amianto a Torrequetta. A Senato l'ha detto, non c'è nessun libro di Amianto. Piuttosto ovviamente andrà fatta un'opera di manutenzione efficace per eliminare quelle pietre che sono state portate a riva dalle mareggiate. Io vorrei sottolineare che stiamo parlando di una spiaggia, una spiaggia soggetta alle maree, e soprattutto alla forza del mare che quotidianamente agisce su tutte le infrastrutture, su tutte le opere che l'uomo realizza. Poi il mare comunque erode, cioè comunque ci sono delle problematiche legate a questo. E quindi ha bisogno, è una struttura che ha bisogno di una manutenzione, una manutenzione ordinaria che se fatta in una certa maniera consente poi di fruire al meglio. È chiaro che per anche le caratteristiche della bonifica fatta non si potrebbe aspettare di avere la sabbia a poter accedere al mare attraverso la balneazione, attraverso la sabbia, ma con dei pontili che sono stati già posizionati e che hanno bisogno anche loro della manutenzione ordinaria come avviene in tutte le strutture pubbliche o private prima della stagione estiva. È chiaro che forse qualcuno è stato un po' ingannato dalla velocità e dalla precocità della stagione estiva che è arrivata ci ha trovato tutti quanti sorpresi perché fino a qualche giorno fa si poteva girare in manietta a maniche corte, si poteva fare addirittura il bagno, ma eravamo a fine marzo, primi di aprile. È chiaro che le procedure sono state già avviate, quindi per maggio, fine maggio sicuramente la spiaggia sarà fluida. Anzi, magari un po' di attenzione sulle bagnanti perché effettivamente ci sono quelle pietre che possono costituire un pericolo, quindi con cautela. Perché, ripeto, non era previsto che i bagnanti ci si potesse fare il bagno a fine marzo, però oltre a questo credo che poi fonte più autorevole del Presidente e del Direttore Generale dell'ARPA non ci possa essere. Quando il Direttore dell'ARPA ha escluso in presenza, mi pare, anche del Capo dell'Opposizione, evidentemente c'era stato un fraintendimento anche tra quello che è stato detto e quello che è stato riportato, perché non credo che nessuno possa dubitare della bontà dei lavori che hanno consentito finalmente di poter far fruire ai cittadini di Bari di una spiaggia senza alcun pericolo rispetto purtroppo al passato, perché al passato ci sono stati rilevati dei dati che erano assolutamente fuori dalla norma e che portavano… che appartengono però al passato, appartengono al passato e che per fortuna sono stati superati e che adesso possiamo ricordare come una spiaggia che finalmente potrà funzionare al meglio senza nessun pericolo. Grandi bambini, anziani, tutti quanti.